Quindi adesso no? Allora, sì, giudizio. Allora, innanzitutto ringrazio ancora Marco Petrozzi che è vicino a me per l'ottimo lavoro che ha svolto nella selezione dei ragazzi. Farei un applauso a Marco. Bravo Marco, bravo. Bravo Marco. È estremamente difficile valutare questi ragazzi, questi bambini, questi ragazzi perché sono bravissimi. Quindi abbiamo fatto insomma, credo, speriamo un ottimo lavoro anche questa settimana e facciamo un grande bocca al lupo perché è veramente difficile scegliere e cominciare a fare una selezione ben precisa perché stiamo andando avanti con le fasi, no? Quindi insomma chiudo qui e buon lavoro a tutti. Grazie, prego. Ciao. Buonasera. Come dice Angelo non è facile giudicarli anche perché comunque sono giovanissimi, però io sono rimasto sbalordito nel vedere cantanti veramente giovani, avere una padronanza sul palco che fa veramente invidia a cantanti molto più esperti. Davvero complimenti e ancora complimenti a Marco. Grazie, grazie.